Una bella giornata di sole e il divertente tracciato dell'autodromo di Modena hanno fatto da ottimale cornice la prova in pista della CLA 45 AMG, nuova entusiasmante proposta dell'ormai e ampia gamma AMG, marchio prestazionale ormai affiliato all'universo Daimler. CLA è la berlina sportiva di casa Mercedes che oggi è ancora più sportiva presentandosi sul mercato nella versione 45 AMG, mossa dal quattro cilindri più potente mai realizzato nella storia dell'automobile, da un 2 litri pensate siamo riusciti a tirar fuori addirittura a 360 cavalli, quindi 180 cavalli litro la potenza specifica di una moto sportiva, ma CLA 45 AMG non è solo potenza 450 Nm di coppia massima, ma è anche prestazioni a tutto tondo, quindi un assetto, sospensioni, ma anche l'impianto frenante completamente riprogettato per le alte prestazioni di CLA e poi soprattutto una inedita trazione integrale in grado di mettere a terra tutta questa potenza, trazione integrale che parte dall'anteriore ma che è completamente variabile e che può dare veramente tanta soddisfazione ai piloti di CLA 45 AMG e ai nostri tanti clienti, sia in pista, in piste come quella di Modena, particolarmente tecniche, con due chilometri ad esempio questa di Modena con 11 curve, quindi abbastanza stretta che può esaltarne questa caratteristica, ma come tutte le AMG, anche CLA 45 AMG può essere guidata veramente tutti i giorni e anche con consumi particolarmente ridotti, riusciamo addirittura a fare 14 km con un litro di carburante. Con una velocità massima autolimitata a 250 orari e soprattutto un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 5 secondi, la CLA 45 AMG spinge senza esitazioni sul rettilineo e affronta le curve, anche quelle più impegnative, in tutta sicurezza. Fa la sua parte il cambio sportivo a sette marce Speed Shift di CTA AMG, che ha nel fluido e veloce passaggio da un rapporto all'altro senza interruzione del flusso di potenza, uno dei suoi punti di forza, una chicca per gli amanti della sportività senza compromessi, che tra l'altro possono contare su tre programmi di marcia indipendenti. CLA 45 AMG va a completare il portafoglio della gamma AMG in Italia, AMG è il marchio ad alte prestazioni che personalizza e rende ancora più esclusive tutte le vetture con la stella. È già disponibile sul mercato, si può ordinare prezzi a partire da 57 mila euro. CLA 45 AMG CLA 45 AMG CLA 45 AMG